eccoci qui eccoci qui bentrovati cari video spettatori in questa nuova diretta su twitch un saluto anche a chi sta guardando questo video indifferita su youtube invito loro come sempre a seguirci anche sul canale twitch perché siamo in diretta praticamente tutti i giorni dalle ore 17 all'ora 21 ragazzi quindi venite 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 come state ragazzi tutto bene ciao pimpi ciao tris come state come state perché mi è venuto in mente una cosa di sto gioco quindi volevo un attimo ragionarci perché noi dove abbiamo fatto le quattro torri non ho provato a usare il la cosa figa che ci abbiamo perché ora dovremmo aver recuperato il simbolino rosso che sarebbe questo qua sopra in alto a destra in alto a sinistra i tre simboli anche se io non mi ricordo dove stanno quei tre simboli non mi ricordo dov'è però vabbè dettagli poi lo cerchiamo nel caso ma la cosa che mi che mi preoccupa è che non basta quello se noi dobbiamo averli tutti quanti voglio vedere un attimo una cosa dov'era f1 praticamente noi dove stiamo qua non ci stiamo sulla mappa giusto infatti non ci stiamo sulla mappa ok questo coso qui questo coso qui che non so dove sia e noi abbiamo solo quella rossa praticamente di questi però non mi ricordo dove sta sto coso onestamente vabbè lo vediamo un secondo e ci siamo dove si fa qua ora si è tradotto il tempio tre chiavi ah si è tradotto il tempio tre chiavi ah no forse già c'era coppa fortunata campana silenziata cenere invertita anello del pericolo azzurro ah cazzo cazzo ma l'ho notato ma manco voi mi aiutate mai se non le ho notato io certe cose qua c'è il pozzo con la moneta in mano non è che devo buttare la moneta dentro il pozzo c'era la pagina vedete qua sotto cioè siamo noi con la moneta in mano vicino al pozzo o minimo da prova sta cosa minimo ok vediamo se mi sono dimenticato qualche altra cosa qua punti salute no non ci interessano come nella fontana di tre si anche secondo me in base al numero di monete succede cose diverse boh povero vabbè qua sono le offerte non ci interessa esca per non ci moneta d'oro oggetti magici croce benedetta che cos'è la croce benedetta non ce l'abbiamo ancora la croce benedetta io me l'ho notato il terzo abbiamo il bastone la spada e ci manca quello la col punto interrogativo che mappa si deve fare qua nel sentiero prima che mi dimentico si deve fare notte magica dove è questa notte magica i primi mi pare no i primi sovvelenamento ecco qua notte magica via forse solo uno ne ha incontrato no 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 ne ha incontrato un bordello di pozzi non ho capito sto fatto che stavo vedendo c'è una polverina polverina che cosa perché mi aumenta l'energia quella polverina forse mi aumenta la salute massima non mi ricordo più però l'abbiamo fatta l'abbiamo usata con la polverina comunque qua abbiamo messo tutto qua abbiamo messo tutto e qua abbiamo messo tutto vabbè ah ecco qua il coso eh si ci vogliono le tre chiave costudito in un tempio nella foresta e l'abbiamo fatto poi c'è rubata dal cielo e sigillata dalle radici del mondo civiltà croce benedetta il potere di sconfiggere la morte ah la croce benedetta c'era da sta cosa probabilmente vediamo se ci siamo dimenticati qualcosa ok qua devo andare ok vuole ricordarsi dove siamo e non ho capito nemmeno io pimpi perché non ce l'abbiamo ancora non c'è manco sul disegno ok qua siamo sempre qua comunque ho un'arma come che usa il mana no qua no è fallo devo sconfiggere questo ok qua no qua no qua no c'è questo vediamo dove ci porta ok è questo giusto si è questo perché non ho provato a fare la cosa di potenziamento qua sopra cioè quello di rimanere cliccato a ver se deve sconfiggere la forza non mi ha dato manco niente vediamo eh vedi ma vaffanculo a me che non faccio le cose ah devo continuare forse scusami scusami non lo faccio più ah no non fa niente perché 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 non fa niente questo micido butta dentro non ci siamo più ah il trasporto era che cazzo ah devo mettermi questo c'ho nove monete io succede niente ecco ah c'è la cosa laggiù vai si bravissimo ok ok dove siamo la grande biblioteca che cazzo non ci faccio niente a questo vabbè vabbè che cazzo è questa cosa no questo questo mi attaccherà dopo sicuro ah c'è cosa per salvare ah no il teletrasporto questo è ah ok siamo dall'altro lato ok quindi questi ci portano sempre qua però non c'è niente di diverso è tutto uguale ah pure qua un'altra guardia proviamo a salire prima cazzo che cosa c'è solo la scala dall'altro lato vabbè prima di fare se cosa non è stata sotto mi sembrava che ci fosse un passaggio qua non è nessun passaggio qua nessun passaggio qua nessun passaggio passaggio ok posso anche mirare non lo posso non posso farci niente con questo vieni 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 con me vieni vieni amico non vede più ma qua c'è un altro boss come lo sconfiggiamo guarda dove veniamo si che non ci abbiamo nada non ci abbiamo nada oh un pezzo un pezzo del manuale oh si rompe grandissimo la cattedrale ora ho capito praticamente una cosa che si sale è in base cioè la base è questa qua in fondo poi si sale e si arriva al cimitero ma giusto al cimitero qua guarda tu l'ho distrutto che ci siamo andati qua il giardino ovest la miniera la camera estera ci mancano i due e questa qua che non sappiamo che cazzo è ok allora vabbè non è che si sale diciamo è in piano è quella là dove ci trasportiamo va per farvi capire infatti al centro c'è la spada e poi si sale le scale e si andava su quella roba lì ok ok ora è chiaro miniera vabbè tanto ce l'abbiamo segnata quindi ogni volta che andiamo lì ah qua ci sono i disegni disegni di quel robot è un altro manuale ok monastero civiltà zigurat sepolta pistola miasma miasma inferiore ma la pistola fungopo fungossa amistrello ma che nomi sono eco perduta ah questa è quella che spariva ma questa è la palude la palude del vecchio cimitero ok questa zona è estremamente pericolosa ed è meglio non entrarci anche se ti senti coraggioso solo ai fantasmi è permesso entrare al suo interno questo lo dici tu io ci entrerò questa dicevi vimpi vero la porta delle montagne che sta chiusa 60 secondi maschera razziatore cinturino pugnale eco magica gemma dell'aurora eco assordante campagna silenziale coppa fortunata parabraccia anello pericolo arancione anello pericolo azzurro cenere invertita cavigliere profumo e profumo sa cazzo fanno queste cose non ci do spiegazioni di queste come funzionano ah pure dietro la lavagna ok ah no ma era questo forse ah forse ce n'era un altro e qua stanno sti cavi appesi come al cimitero questo attivano le torrette questo è tutto uno studio torretti e teletrasporto torrette e teletrasporto questo è un baule e qua ci sono morto ah perché ancora non è ma questo non è un baule scusatemi sono finti questi baule li devo prima attivare andiamo prima sopra andiamo cosa c'è sopra eccolo qua questo è il boss porca puttana voglio scendere come si scende ah non mi ha manco ucciso come che ciò è e vabbè diventa pure ancora ancora no quindi lo devo prima risciare ok prima lo devo schivare non risciare ciò è stronti ancora ancora pure mi ha preso non si tratta della sporta più qua vicino questo fan culo a me non si tratta ma non si tratta Io salirei prima in quello più basso Che senso salirei prima in quello più basso? Sì sì no ma dovevo salvare prima di andare lì Non è che ci posso fare molto È solo che pensavo di poter scendere Invece un'altra salita non mi faceva scendere più Ma qual'era? Ah ci abbiamo la mappa Adesso la ritroviamo Dove cavolo sto? Ah è impossibile così dietro Sì 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 no no Attivavo anche il salvataggio Lo volevo fare dopo Volevo dire prima sopra che cosa c'era Ecco Dove dobbiamo andare? Alla biblioteca? No Giardino ovest no Dove cazzo dobbiamo andare? Ah tu l'ho distrutto dobbiamo andare Ok questo in basso a sinistra Ok Questo dove stavo andando? Per regola No mi sa che quello giù era Fatti Oh però siamo qua Posso fare qualcosa qua? No Ovviamente no E che serve sto trasporto qua? Ma Mi domando e dico Mi domando e dico Eh mi ha detto mi pare Mica eri sicuro E poi potevo salvare già qua Perché non l'ho salvato Vabbè Dettagli Ecco Facciamo tante domande Perché No ma ci dà il cuore Anche c'è un racciotatore Oh vabbè No sono uscito Vabbè Vabbè Dettagli Si è diventata la famosa Volpe da biblioteca Va bene Va bene Va bene Anche se ci azzeccasse Anche se ci azzeccasse Non mi esprimo Ah proprio scintille escono Ottimo Vediamo se la trasporta Salviamo prima Eh no Voglio che si vuole Eh ok Ora si aprono Risalviamo Che è meglio Che è meglio Che è meglio Andiamo qua Vediamo dove ci trasporta L'amico Frizzi Va bene Per sparare cazzo Nooo Non si sparano Ne cazzate Si dicono al massimo Le cazzate Ah quindi qua ci porta Direttamente Eh scusa ma perché Nel coso non c'era il disegno Ah qua c'era il disegno Però Bastardo vero Si ok ma Come lo sconvigo E questo Ah forse lo posso Lo posso Lo posso Attirare Vedi Lo attiro Tu muo me lo dici Ma che stronzo Che stronzo No E così non vale però Così non vale Ma va Fanculo Fanculo Mi è incastrato là dentro Comunque così è facile Dai 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 Ce la possiamo fare Però mi servirebbe Qualcosa per fargli male Di più Che posso usare Questo posso usare Che dovrebbe Aumentarmi l'attacco Però pure qua C'era un coso che Ah vediamolo Vediamo se sta scritto qualcosa Se sta scritto qualcosa Nel manuale Se ci capiamo qualcosa Guarda che mi sembra Ci sia ancora un cubo Da attivare Intendi Ecco qua Parabraccia Coppa Fortunata Campana Silenziale Eco Assordante Tintura Tintura Mi aumenta l'attacco Mi abbassa la difesa Forse Vediamo se ce l'abbiamo Cinturino Pugnale Però non sappiamo A cosa serve Questo ce l'abbiamo Non ce l'abbiamo Ah ce l'abbiamo questo Pugnale Proviamo Se oggi sono quella di Hermes Eh ma non credo che mi faccia volare Penso Ma perché C'è C'è Tienevole andare Eh ma sono arrivato E palle Sti cosi Ecco Just some more End Guarda Hike Mi Ful Mi No Mi continua a danneggiare La cosa a terra Mi continua a danneggiare Ti faranno volare No Non credo proprio Non credo Da sempre qualcosa in più Ma non so cosa Da Hai già Hm Grazie a tutti Tronzo No 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 Perché è sta Roma Ecco C'ho un altro Vero P No devi morire Però Cazzo Ma ce l'ho da la roba verde Ok Ce l'ho da la spada Non ci dà la spada Voglio la spada La spada Voglio Ma perché non ci dà le spade Abbiamo due su tre Dai Ma voglio la spada Ma io non lo so Non mi fa scendere Però Stronzo Prima non mi potevi far scendere Allora andiamocene a salvare Non ti chiami Artù Eh ma se non me la fa manco testare Me la dovrebbe far testare No Allora vediamo se ci possiamo potenziare Non ci possiamo potenziare niente Eh ragazzi ora dove dobbiamo andare Scusatemi Nella miniera C'è rimasta solo la miniera Eh però perché non c'eravamo andati nella miniera Pensandoci Ci manca l'ultimo in fondo Che non sappiamo dov'è Ma questo sarà il cimitero Sicuro Ah no questo qua Ma perché questo Senza di che cimitero Ma è questo Allora andiamocene qua dentro Dai Andiamo un po' dove ci porta Il cuore Perché qua non ci possiamo arrivare qua in fondo Eccolo là infatti Allora noi ci abbiamo La miniera La miniera qual è Eccolo là Camera a destra Camera a est Ah no camera a est dove abbiamo sconfitto il tipo F1 Eccolo la miniera Quella a sinistra Non a destra Ok Perché qua la miniera Manco l'abbiamo fatta noi Perché non l'abbiamo finita Grazie a tutti No Grazie a tutti. Qua perché ci siamo fermati poi? Non mi ricordo. Voi vi ricordate? Secondo me anche la stanza blu non ti ha dato nulla. Mi sembra strano. Eh ma con la stanza blu secondo me boh. Qua non mi ricordo perché ci siamo fermati. Non mi ricordo se eravamo morti. Allora salviamo prima cosa prima di fare cagate. Questa è una mappa automatica. Ok non la posso fare più. Quante energie ho? Hai sei solo al posto. Chiudiamo. Ok. Allora abbiamo salvato. Andiamo avanti. Vediamo dove ci porta il cuore. Allora se ricordo bene non si riusciva ad attivare un cubo. Forse perché non potevi fare nient'altro. Confondo io. Mi ricordo con precisione onestamente. Boh proviamo a sconfiggere. Eccolo lì. Che mi cambia il bersaglio. Stronzo. Ma perché la bomba che c'aveva non me la dà? Ok. Stronzo. Stronzo. Ah perché non c'ho più energia. Ok. Ok. Bravissimo. Bravo devi colpire. Ok. Questo dove è uscito? C'è una strada qua dietro. Ma qua torniamo indietro è inutile. Ma non è una torre da attivare? No. In pratica quelle cose così mi danneggiano solo. Sono. È come se fossero delle torri rotte. Lassù c'è un baule. Sopra di me è aperto. Perché noi da qua già ci siamo passati. Già mi spara. Ma non c'ho più mana. Come è già finito il mana? Dove devi sprecarlo il mana. Il rallentatore sta per morire. Vedi triste come mi scende pure la cosa. La vita. Non devo consumare il mana dai come un ebeta è qua. Stiamo a prenderlo. E trascinarlo qua. Ah dittura posso pure buttare giù. Ok. Questo mi lancia le bombe. Ma non ci diamo. C'è un altro cecchino. Qua ci dovessero. No. Solo per lanciare le bombe. E arriva lo di gran carriera. Tutto incazzato. E a favore. Ma dove sta sto baule? Dove sta il baule? Vole in basso. Sì i vasi esplodono quelli però. Bomba. Eh si mi sa che era questo che dicevi giusto? Oh sto iniziando ad avere freddo. Ma che cavole? Accentro il climatizzatore. Non c'ho voglia. Dai. Si rompono pure queste casse qua. In realtà. Però non mi dà niente. Ma perché guarda giù? Perché guarda giù c'è un baule? Ma quando scende guarda giù? Bastardino. Ah mi dimentico che è sto coso. Penso che è qualcosa che si scassa. Ma vaffanculo. Non lo posso riprendere. Non lo posso riprendere. Vieni qua. No se è buttato giù è morto. Metti un maglione. Sono solo con la camicia senza manco la maglia sotto. Perché faceva caldo. Ah aspetta non c'ho il... Non c'ho il tutto. Non c'ho il tutto. Ma perché non mira questo? Vieni qua. Eh ora ho freddo. Ma prima no. Qua è che non ci potevamo andare lì. Però c'è una scala che sale. Questa scala l'abbiamo già presa. Non mi ricordo. Sali? Mi sa di sì però che l'abbiamo presa. Sì perché c'è il baule qua dietro. E ce n'è pure un altro dall'altro lato. Non possiamo raggiungere. Ok. Ok ok ok. Scendiamo. E andiamo qua dentro. Appunto ora metto il maglione. Facile. Eh mi devo alzare. Devo andare di là. Cioè pensavo di avere il telecomando del climatizzatore a portata di mano. Ma manco pure. Eh come ci vado là? Dai vieni qua. Bravissimo. Porca buttana. Oh. Oh. Che cazzo lo miro a questo? Ok. Oh ma ha fatto col suo addobboccette. Dai vieni qua. Non viene. Cazzo. Eh ma come vado oltre? No non posso andare avanti. No ma avanti si va. Madonna quant'energia mi ha tolto. Cazzo. Cazzo. Ok. Ok. Vai inciipto. Va inciipto. Ah. Ok. stiamo ovunque che devo fare amico perché l'ho fatto questo è uno schifo di vita perché mi ha fatto rivenire di qua ah qua devo andare mannaccia questo dopo dai speriamo che c'è un salvataggio dopo perché se no sto nella merda pochissima energia mi prendo lo stesso ma c'è il boss finale tipo da quest'altra lada è manco un salvataggio no ma qua ma qua ci siamo venuti scusami perché sono i baule aperti questo è un altro teletrasporto andiamo dove ci porta questo teletrasporto ah ci porta sempre qua qua stiamo addirittura morendo siamo con poca energia ok 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 non ci fa manco salvare manco salvare non ci fa manco ok dove si stai portando ah da questo altro lato ok qua possiamo scendere e siamo qua ok però siamo sempre qui e non possiamo salvare questa è la scorciatoia diciamo ok e c'è qualche altra ah c'è una scala là sopra come ci arrivo su quella scala ah no questa è la scala che avevamo preso noi ok qua non ci possiamo andare a nessuna parte dentro non possiamo andare a nessuna parte vero? mi sembra di no mi sembra di no ma come dire che è solo per sbloccare sto coso sto del trasporto sto un 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 Grazie a tutti. C'era una stradina per scendere, in che senso? No, ma quella zona lì, dopo aver sceso con la corda, già l'abbiamo fatta, quando siamo venuti dalla montagna, noi siamo passati da lì. Capito? Mi sono perso qualcosa, riguardiamo qua dentro, è impossibile non ci dia niente? Eh sì, vabbè, ma voglio capire che ci deve dare qualcosa questo, ma per forza di cose, cioè non avrebbe senso. Cioè non credo che sia solo per i tre trasporto. Non credo che sia solo per i tre trasporto. Almeno che non ci dà qualcosa da questo lato. No, non ci dà niente. Che è uscito dal baule? Mi sta avvenendo un dubbio. Che è uscito dal baule? Una carta, vero? Qual era? Questa? Voglio vedere una cosa. Ah, vedi? Fammi vedere. Oh, sfizio. Potremmo morire, però. Eh no, mi fa sempre, pensavo che non mi facesse fare niente, cioè mi proteggesse, sai? Pensavo che mi proteggesse. Dobbiamo salvare per forza di cose, ora. Ah, qua c'è una strada. Che c'è qua dietro? No, non c'è niente. Però ci abbiamo sta maschera. E a che serve sta maschera? Se non a proteggerci da quello. Vediamo sul manuale. Maschera da razziatore. beело salvare, comunque. E al cimitero per cosa? Qua aveva senso che potevo andare nei cosi viola Qua è la porta del monastero chiusa Ce l'abbiamo infatti ancora chiusa Eh razziatore ho capito ma Oh no Sì ma Cioè Dove si salva? Non datemi fastidio Ecco sono morto Madonna che falla Morire così non è che senza un senso logico Voglio vedere questa maschera se mi succede qualcosa Perché pure questi c'hanno una maschera Vediamo Infatti questa non mi fa più niente Ok ho capito dai Eh dai cazzo Ho perso un sacco di soldi prima Vabbè Qua non mi fanno più niente comunque Ma perché non lo prendo? Questa non mi fa più niente Atteviamola vediamo No No Non fa niente Eh però non succede niente E quindi Vediamo qua se c'è qualche altra cosa Non mi fa più niente Guarda Vediamo qua se mi dà qualcosa No Perché stanno martellando qua vicino a loro Il mistero si infittisce Qua non posso andare Qua c'era un baule infatti L'abbiamo preso Ma non è che posso salire qua sopra? No Ah c'è un binocolo qua Ah pure l'avevo visto sto binocolo Ma non è che devo scendere giù? Beh saliamo però Ora poi vediamo Ma noi ce l'abbiamo una mappa di questa zona La cattedrale La cattedrale Vabbè La miniera Ecco qua Monastero Cavità La zigurat Sepolta Misma inferiore Ah ecco la maschera Questa è una maschera Ah giù Ho capito Cavolo giù C'era un posto che non potevamo attraversare prima Infatti sono salito sopra E giù C'era praticamente Quando siamo saliti la prima volta sulla miniera C'era una zona In cui non potevo passare E sono dovuto salire Per forza Perché c'era un Un coso di questi C'era una pietra Che non ci poteva passare vicino Però c'erano i minatori Che minavano vicino Infatti non mi fa più niente la pietra Perché prima mi dava Ah perché forse era qualcosa rotto Il problema è che per arrivare laggiù Abbiamo fatto il giro No aspetta forse da qua riesco a scendere Sì da qua riesco a scendere Che è da dove sono salito Praticamente No non è questo invece Andiamo sotto al ponte Qua solo per prendere il baule Sto consumando tutte le cose Qua dove andiamo Non ci porta nessuna parte Qua sotto devo andare Dove sta sta roba Mi ho fatto il giro ora E va bene E va bene E va bene Questa però mi fa male Secondo me No Non fa proprio niente Ok Non posso sparare Ah però questo l'ha preso Vai butta la bomba Butta la bomba Perché non la butta Vabbè Ah perché forse c'era l'amico Questi intelligenti Dove scappi Guarda come scappa Ce l'ha scappato Quindi qua mi fa Dai cammina Ecco Ecco Stato mi piace Ah da qua Come mi uccido Ma questo Vabbè Stronzi Non posso andare Forse non è Dai che ce la facciamo Dai Dai che ce la facciamo Insomigliamo Un'altra boccetta Ok Qua terra Vedi c'è pure un baule Che io da qua Non sono passato Non riuscivo a passare Qua dentro ci sono andato Vero Ah vedi che c'era il passaggio Per arrivare qua sopra Me lo ricordavo Ma vaffanculo Però posso andare a salvare Ah no no Non mi ricordavo dove Con precisione Ma c'era Sto stronzo Andiamoci a prendere Il baule Perché ci sono i 3 cecchini Non posso fargli niente Ora Ah spero ci sia un salvataggio Qua sotto da quest'altro è a buttare un bombo no sto sopra cioè sto sotto devo andare sopra ok andiamo sopra andiamo sopra ma sta pure sotto un altro barile un altro barile bauloso questo si rompe ah no questo si poteva dare infatti per potenziarci guarda qua dietro che cosa c'è guarda il barile nascosto un altro sta sopra ma sopra dove stanno sti cecchini come ci si va mica l'ho capito non ci si va vabbè solo per buttarci questa cosa voglio dire che abbiamo barili baule siamo lì siamo lì ma vuoi vedere barile barule barulo barulo ieri giusto barulo non so se andate di codi l'amo addirittura abbiamo anche una terza opzione ossia da questo lato qua non ci posso andare da nessuna parte non sapevo che lo colpivo mi dovrebbe dare un salvataggio però eh c'è sto senza nulla barulo barale paola barale che cavolo sei andato a scavare e non ti far sentire un anno volante sennò paola barale non ci vede più ah ma qua ci potevo andare no non ci posso andare come scendo là sotto vai gioco a prendere il baule come lo vado a prendere giù ah da qua si scendeva ok non so che continua la stessa strada invece no solo per il baule ok qui mi barulo non c'è c'è nano c'è non si vede ma c'è comunque non so che avesse un debole ma una volante ha sempre un debole per le persone che hanno più di 55 anni baule strada ma che stai dicendo Tris cosa stai dicendo sembra strano che stai dicendo non debba fare niente mi sembra strano mi sembra strano vabbè iniziamo a scendere vedi perché non voglio scendere io mostro i cecchini non li posso uccidere allora io dovrei fare questa cosa qui vediamo un po' se ci riesce vediamo se ci riesce eppure mi ha colpito devo andare là sotto facciamolo allontanare un po' che non mi ricordavo la strada con precisione cazzo cazzo si accende una mischia due mischie tre mischie sono morto lo stesso devo sconfiggerli tutti che fallo dai è uno è tre dai dobbiamo buttare le bombe che vogliamo fare no vediamo se fate più i cazzoni ora ora si uccidono da soli quelli è uno vatalo lì è due ok no come si fa vabbè ho consumato 15.000 oh sì non c'è se ne va nooo ma come sono morto ma quanto cazzo di energia mi toglie questo madonna mia cioè le cose è più stupida non c'è non c'è non c'è ok ok grazie C'è quello che mi sta seguendo Da casa sua C'è quello che mi ha preso C'è da casa sua questo è arrivato Allucinante C'è a me che faccio queste cose Mannaccia Perché cadendo Qua mi si blocca Ok Ma vaffanculo Fedel mana Vero Allora Vediamo un po' Se ce l'abbiamo Un po' di mana Ok Rimettiamoci questo Qua non posso da nessuna parte Qua non posso Da dietro Mi fa buttare giù qua Ah c'è la discesa Ok Da lì Tutti di corsa Tutti affannati Comunque Un salvataggio Non me l'ha dato ancora Comunque Comunque E' Acce Mi Non posso da nessuna parte Prima o poi Probabilmente Poi Probabilmente Mai Qua posso scendere No Mi fa andare Ok Andiamo avanti Da questo lato Qua dovrebbe finire Secondo me Però vediamo Se c'è qualcosa No Qua continuo Allora E' qua Che finisce Infatti Qua finisce No C'è il barulo Il barulo E ci siamo E finisce La strada Ok Quando sono due Quando c'è un bivio E' La maggior parte O è uno O è l'altro Che devi Continuare E guarda Il costo Dove sta Sopra di noi Sta Ah Qua c'è un altro Trasporto Ma perché Non posso Salire Più Qua sopra Cioè Non posso Più salire Su serio Ma su se Non posso Più salire Ecco No Non era più Quale Dea Non so Non so Ecco Punti interrogativi Punti interrogativi Punti interrogativi Mi serve Un salvataggio Questi Ma si svegliano Mi uccidono Ah Qua c'è Qua è un boss E ma come faccio Io Se muoio Questo è il blu Ci serve il blu Ci serve il Cosa blu Ma sicuro Sta qua dentro Ehi Cioè Quando muoio Come arrivo Qua giù Di nuovo E beh Tutto blu Spero ci sia Solo un salvataggio Prima del boss Era tutto Viola Fuori Poi Improvviso In alto Blu L'interno Della Zigurat Ok Allora C'è ancora Tempo Adesso Adesso Salvataggio Lo sta facendo L'aspettata A due ore No 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 Non ci voglio andare Ma pure qua Non mi preoccupo Ecco 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 Vabbè Andiamo a vedere Qualcosa Bloccare Fai Eppure finisce Che cazzo ha fatto? Ah mi ha caricato tutto Grandissimo E' salvato agio questo Potenziamoci pure Altra cosa posso fare? Ah posso mettermi questo Qua E lo usiamo Ok perfetto Poi ci mettiamo di nuovo questo Ok Salviamo Aspettate un po' Un secondo 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 Sarà diventato un ghiacciatore E' andato a recuperare un po' di calore Si ho acceso il climatizzatore Infatti E' andato a recuperare un po' di calore E' andato a recuperare un po' di calore No Pensavo che era Pensavo che cosa fosse Un vuole verde Posso camminare qua Ok Ma che cavolo sto Ah solo per il baule Ma perché è verde sto baule La luce forse Qua non posso andare Ok Scendiamo giù Ecco 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 guarda mi fai avvicinare ma beh vabbè e poi io perchè non sparato lontano a sto punto se cambiasse obiettivo sono morto spi spi eh ma apri madonna mia ahhh non fai avvicinare mamma mia che palla non fai così ok adesso non ascolta una cosa un maglione andiamo a primavera oggi è primavera ieri è primavera vabbè quello oggi è 21 giusto che ci devo fare con questa cosa proviamo a fare questo no non fa niente eh che oggi oggi è primavera ragazzi oggi è primavera è loro che volete di più ahhh si è attivato il ponte qua ok perfetto perfetto questo è un'escalda questa cosa qua come lo possiamo prendere qualche modo c'è qualche modo mi sa di no infatti qua finisce tutto ok 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 per forza per forza andare andare lì dove non batte il sole no qua è impossibile non ci mostro infatti si vabbè poi poi cos'altro fai cos'altro fai vedete se paro se vabbè vabbè no ma devo passare a forza no non devo passare a forza da qui ora ho aperto il passaggio scusatemi un secondo infatti ok ok ah lo posso colpire eh muori dai pareva strana troppo facile troppo facile troppo facile insomma quante volte si trasforma la mia domanda ah già è morto vabbè vabbè voglio andare voglio prima salire sopra perchè non mi fa salire sopra qua c'è il barile se è morto al progresso lo vorrei affrontare si probabilmente si comunque se muoio me lo ritrovo di nuovo lì ok ok guarda dove sono sceso è dall'unica strada infatti è l'unica strada e vado in quell'altra scale là sotto ah ok continuo ok cosa fa saranno con le quattro bare sopra le quattro bare sono i il guscio del robot se ho capito bene quale intendi vediamo se c'è qualche barile ma mi sa che non l'ho visto eh non l'ho seppellito si è auto seppellito ho fatto la trasformazione figa è diventato un super senato di terzo livello orsacchiotto orsacchiotto ah no questo non è l'orsacchiotto ecco ok ok non sbagliamo più questo giro almeno lo uso questo questo può essere che ci porta nel blu in fondo vicino al cimitero ecco e mo e mo e mo io vado prima giù no 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 cazzo dovevo mirarlo almeno ma cia mannaccia mannaccia oh cazzo ma siamo abbiamo sbagliato il gioco questo è il gioco di di other wilds voglio risalire posso risalire ora dubito giusto dubito ci stanno sti cosi la dentro cazzo e usano come come lampada praticamente ecco il salvataggio salviamo per il momento questi sono morti con le bombe vicine non è che sono esplose le bombe sono morti ma qua è boss qua per forza è il boss ci deve stare dove vai? ma si si dividono cazzo che quando mi colpiscono mi tolgono la vita cioè mi tolgono mi abbassano proprio la vita totale cazzo cavolo beh uno lo devo affrontare per forza uno lo devo affrontare per forza eccolo qua ma ma più cazzo ci stanno tutte ste torrette qua eh dai vai una boccetta di energia siamo a 5 ragazzi siamo a 5 siamo a 5 ok ok qua dietro manco niente da che cavolo devo andare? qua 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 ok ok è impossibile da battere questi impossibile fanno un male cane fanno un male cane fanno un male cane otto chilometri mi prendono otto chilometri mi prendono anche se un male cane che che qua è è che fanno Grazie a tutti Un vengolo Entra un vengolo Eh ma così non lo ucciderò mai Finisco il mana Un vengolo Ti do già tutto il mana Cioè non Un vengolo Un vengolo Allora l'altro lato Vediamo un po' se ci metto due bombe Che cosa succede Non c'è niente perché non li prendo manco Ah e questo c'è arrivato Affido le bombe Figur Un vengolo Un vengolo Eccolo lì Eccolo lì Ma perché non mi ricordo dietro di te Perché dico io Perché E niente Sempre quell'avanti Non lo so Non lo so Non so se ne escono altri Qua ci sono le due torrette Mi ha dato di mano Mi ha dato il mana Non ci sono altri ma sicuro Ah c'è un salvataggio Spare 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 Eh non l'ho visto Pimpi Non l'ho visto Eh giù come ci va Ci deve stare qualcosa Per andare giù Mi sa Eh l'unico posto Da cui posso andare E questo Ma non c'è niente Eh non è che l'ho dimenticato Oh ma sta musica oggi è più alta Allora qua c'è una luce Due robot sono Ecco perché mi ha fatto salvare Questo stronzo Ecco perché mi ha fatto salvare Dai non mi rompere Dai no Eh vabbè Pure questo Dai Ma che roba è Due Sono già morto Sono già morto Ah ma li sta attaccando pure lui No li sta attaccando a me Ah no li sta attaccando pure lui Eh dai Perché non l'ha colpito Due volte Due volte Tre volte Non stiamo scherzando Stiamo scherzando Tu è finito di fare casino No no tappa Dai, muori Come si salva? Se salvo, mi sa che mi riescono di nuovo Ah, eccolo qua, il baule Forse è stato il pezzo più difficile Per ora si, ma Se continuano così sarà ancora più difficile Ma salvo, ragazzi Non è che posso fare altrimenti Comunque appena mi sputano in faccia Eh, questi due ci stanno sempre Eh, pure questi altri ci stanno sempre Cosa d'affanculo No No Ah, si stronzi Comunque mi sono perso un lato Di là per scappare Quasi quasi rinizierei, guarda La camera è nascosta Voglio fare Torno la schermata del titolo Che mi sono dimenticato qualcosa Lì, sicuro Eh, ci devo tentare Non c'è niente, dai Meno male Beh, giù come si va allora Non capisco come si va giù Cioè dall'altro lato c'è un'altra scala Come faccio ad andare dall'altra scala Ma non si uccidono da di loro Vabbè, poi ci pensiamo, dai Eh, difficile Penso che ci sia qualcosa qui Che ancora non ho visto Eh, però da là non posso andare Quindi non è che C'ho molta scelta Questa camera è nascosta Cosa, 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 cosa Coscia si, 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 si Nascone c'è Adesso è un salvataggio Non attivo Infatti, morto Ah, lo devo attivare da dietro Ok Ok Salviamo La lingua non c'è spada Ah, qua la vedo troppo lunga Qua vedo il boss, dai Eh, quindi dall'altro lato Che cosa c'è Che cosa c'è Che cosa c'è Guardo fuori E penso a te Chissà se tu Chissà Ah, questo è il coso per il risultato Ah, questo è il trasporto Si è aperta la stanza Dove non potevamo andare Ok Chissà se tu Chissà se tu Mi stai pensando ancora di più Perché dei giorni sei distante più che mai Poi mi prendi per mano Ancora te ne vai Mi chiedo e richiedo Se c'è un posticino nel mio cuore per te Eh Come faccio a buttargli il barile addosso Amico Oh, cazzo Oh, cazzo Va giù, non cadi Domanda Sì Qualc'altra cosa Cioè c'è la spada C'è la pistola C'è sto coso Vabbè Mi da pure a calci Oddio Mi dà il tempo di ricaricarmi Oh, non riesco a prendermi Allora, facciamo sta cosa qua Vediamo un po' se funziona No, non funziona No, non funziona Quindi se sta facendo la mossa Lui la continua a fare la mossa Vabbè Vabbè Vediamo cosa succede Vediamo cosa succede Chica in fronte No, non riesco a prendermi Oh, non riesco a prendermi No, non riesco a prendermi Fanculo Faccio pochissimo danno però Mamma mia Ma posso prendermi sto coso a scappare? Non inizio a non farmi ricoverare il pieno Pure le bombe lancia Mancavano infatti Vabbè sono morto Mamma mia Non mi dà il Non mi dà il tempo Non mi dà il tempo Mi devo parare L'unica soluzione è pararmi Si E' parati però Madonna Ma inizio a non darmi più La parata Niente o niente è davale Non lo prendo più Eh vabbè Altri 15 volte no? Altri 15 volte no? Eh lo so ma voglio un attimo capire che cavolo fa questo Prima di consumare la roba Perché ho capito che quando lo attiro lui si blocca ma fino a un certo punto Sì le moto stanno nel gioco non vi preoccupate Proviamo a lanciargli le bombe dai queste congelanti Vediamo che succede dai Eh vabbè pure io Pure io Come spiegare le bombe Come spiegare pure la seconda bomba Come spiegare pure la terza bomba Hmm Che Cioè Perché mi ha sparato Sempre più o meno Alla stessa ora Eh sì Penso che tornino a casa A quest'ora Quindi passano da qua E di perché Non è una sola Di bomba congelante Strunzo Strunzo due volte No Bocchetta Bocchetta Ma vaffanculo Dove ste cazzo di bombe Niente Non si ferma in nessun modo Questo quando parte Con la sua cazzo di speciale Di merda Non si blocca Proprio No dovevo Adesso il manual Eh ti ho spiegato Tutti i punti Dove vanno Pimpi Non ho capito Ok Quello di là Eh da dove veniamo Eccolo qua Eccolo qua Il puzzle Quindi devo prendermi Questo in mano Che fa Ah ok Ah ok Eh ma che sono ste cose Che ci do Boh Ah c'è da di cose Questi Che ne posso portare Più di uno Ma non so che fanno Non so che fanno Siamo sempre lì Ecco assordante Questo Questo ce lo prendiamo Eh questo che cavolo fa Boh Non ci stanno manco Tutti quanti Mi sa Tipo il cuore Non ci sta Perché il cuore Forse sta prima Eccolo là Coppa fortunata Campana Cenere Invertita PM e PS PM e Eh Prova a mettere Cenere invertita Vediamo che fa Cenere invertita Togliamola Rimettiamola Ma non mi sembra Che cambi qualcosa Sembra sempre così Eh ma è che assordante Secondo me È roba che Boh Non so che cavolo Fanno Anello del pericolo Azzurro È come se mi aumentasse La difesa E mi segnala Quando c'è il pericolo Cenere invertita PM e PS Penso che mi aumenti Sì PM che PS Poi dice Pagine 51 Ma sicuramente Non ci arriviamo A 51 Invece sì 51 Però qua Non ci dice niente Tintura sta Come se la spada Sopra E scudo giù Parabraccio Non ce l'abbiamo Ecco assordante L'ho usato Un paio di volte Ma mi sembra Non abbia fatto niente Anello del pericolo Arancione Anello del pericolo Azzurro Uno aumenta l'attacco Uno aumenta la difesa Sicuramente Io però Ah questo è con l'attacco Ok Perché ora le P sono Ah ho capito Questa qua Aumenta i punti salute I punti mana Ehm Usando le Quando uso le boccette Che boccette Ora sono blu Vediamo Vediamo se mi aumenta tutto No No mi aumenta solo il mana Cioè con questo Trasforma I I PS In Madonna Che cagato A meno che Era la cenere Non quello Giustamente Era la cenere Che mi faceva sta cosa Cenere invertita Giustamente Inverte I PS In PM Ok Sarebbe questo E allora proviamoci a mettere Invece di questo Mettiamoci Questo Ma noi qua C'eravamo andati Mi sa di no Ah si si C'eravamo andati Vi ricordate Dove sta Un Un venditore Qua c'è La statua Della tipo E basta Non c'è Non c'è Il venditore Vero Ah qua E dove Stai I tre Cosi Ok Ok Infatti ora ce lo metto Dentro Infatti Ah Ho tolto un pezzo Ok Basta solo Uno Sarebbe quello Blu E' brutto E' cattivo Però E' boss Brutto E' cattivo Non ce lo vuole dare Qualcosa Blu Allora Vorrei andare In uno Shopper Solo Dove cavolo Stanno Stanno Sti Shopper Ah ma Qua c'è Ah c'è la scala Ok Stava per qua In una montagna Giusto Mi ricordo Tipo una montagna Un qualcosa Qua c'è la scultura Qua c'era solo la scultura Ok Però qua sotto Io volevo andare qua Non so Non so perché Mi ricordo qua Ma mi sa di no Infatti no Questa è la miniera Sulla mappa ci stanno segnati Magari Non li vedo No Se ci stanno Non li vedo Sulla mappa ci stanno Eh sì La miniera Però non mi ricordo Dove Capito Eh Questo è il capo Di razziatore Vedi Fucile Spadone Miniatore E bombe Eh ma non c'è scritto niente Come lo posso distruggere Però mi dice una pistola Come dice una pistola Ma che c'è una pistola Da poter prendere Eh dovrebbe esserci In ogni posto Ma dove Ma che c'è una pistola Ma che c'è una pistola Era giusto per capire che cavolo vendeva Ma solo per quello Ecco che ci abbiamo 3720 Di moneta Cioè di Di pepita Ma che c'è una pistola Ma che c'è una pistola e non lo posso prendere con la paura, è sempre lo stesso andare nel mulino qua, magari siamo nel mulino qualcosa e infatti è nel mulino no, vende solo le queste che cavolo sono? sempre bombe sono, bombe monete madonna, 999 prendiamone una perché mi sa che me ne manca una sola posso comprare questo per mille altra boccetta e basta alla fine ok, questa mille e questa 300 aumentiamo molta energia al massimo qua perché mi sa che con la mi mancava una moneta, erano 9 le monete che ho lanciato una cosa del genere vedi, no, questo è scritto proviamo mi è andato pure un altro, dai che ci possiamo mettere qua dentro questo non abbiamo capito a che serve questo mi aumenta la difesa vabbè, ragazzi chiudiamo qua oggi poi ci ragioniamo domani non posso potenziare niente vabbè certo che ora potevano farlo un po' meglio eh, perché dovresti tipo intuirlo, non lo so onestamente no, ci manca qualche pagina gemma dell'aura ce l'abbiamo noi questa qua ce l'abbiamo con l'impasto a destra ma non credo che faccia qualcosa di beh c'è solo scudo però vabbè, poi ci pensiamo non credo che serva molto non credo ragazzi per chi sta guardando questo video su youtube vi invito come sempre a seguirci in diretta su twitch perché lo siamo in diretta tutti i giorni praticamente dalle 17 alle 21 quindi ragazzi seguiteci 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 anche in diretta perché più siamo meglio è ragazzi meglio è meglio è vi ringrazio per la compagnia anche oggi e vi do appuntamento a domani domani facciamo però dalle 17 alle 19 facciamo tunic tunic e poi dalle 19 alle 21 facciamo empire che parliamo degli eroi di pasqua ragazzi eroi di pasqua ok vi auguro una buona cena una buona serata a domani ragazzi grazie a tutti